Una stagione agonistica affascinante è quella che si prepara a vivere la neopromossa Aurora Alto Casertano, che entra a far parte del girono F della Serie D, dove troverà ad attenderla anche il football club matese che incontrerà nei due derby il primo a ridosso di Natale. Ora saranno in due nell'Alto Casertano far gioire i propri tifosi, proprio mentre le squadre blasonate delle grandi città sono scomparse dalla scena del grande calcio. Anche quest'anno nell'Aurora l'esperienza del regista Nicola Mancini fra tanti giovani sarà determinante. Allora Nicola Mancino per una squadra di giovani la tua esperienza sarà fondamentale? Sì, è stato costruito comunque una squadra, un mix di giovani e qualche esperto. Stiamo lavorando circa un mese, un mese e mezzo, stiamo lavorando bene, siamo su una buona strada. E tu che hai giocato in categorie superiori, cosa pensi di dare a questa squadra? La tua esperienza sarà importante, no? Ma io cerco di dare, come ho sempre fatto, il cuore. La voglia che ho dentro, quella sicuramente non mancherà. E poi spero di dare anche un po' di esperienza a questa squadra. Ovviamente il confermatissimo mister Danilo De Rosa è fiducioso, ma non fa pronostici né promesse come sua abitudine. Allora, con mister De Rosa, il terzo anno qua con quest'Aurora Alto Casertano, che ha delle ambizioni quantomeno di salvezza. Beh, sì, ambizioni di salvezza, in quanto siamo un anno promosso, ovviamente. Diciamo che la società è una società che programma nel futuro e quindi si fa un passo alla volta. Abbiamo allestito una squadra giovane. Niente, non vediamo l'ora inizio il campionato, abbiamo grosso entusiasmo, abbiamo lavorato. E niente, adesso aspettiamo. Lei lavora con molti giovani, abbiamo visto qua. Addirittura il portiere, che non è un under, come usano fare molte di queste squadre, di Serie D. Beh, il portiere, diciamo che abbiamo tre portieri. Diciamo, c'è Kusmanovic, che non è un under, ma comunque è giovane, diciamo abbastanza giovane. No, importa. Secondo me, al di là di chi è giovane o meno, è il campo sempre a decidere chi gioca, chi non gioca. Insomma, se sono tutti giovani, tutti giovani, benvengano. Senta, lei se la sente di fare una promessa ai tifosi della sua squadra, dopo questi esplovati uno dietro l'altro? Ma la promessa è quella di lavorare sempre con la massima impegna, la massima dedizione, oltre non posso promettere. Ma sentiamo cosa ha detto il direttore sportivo Alessandro Sant'Angelo. Quest'anno ha preso tanti giovani interessanti e così parla dei nuovi innesti. Senti, tu hai costruito una squadra di giovani, perché tu sei l'artefice di questa società per quanto riguarda gli acquisti e l'inserimento di questi nuovi calciatori. Come li vedi questi nuovi innesti? Sì, diciamo che sono l'artefice perché questo è il mio compito. Fortunatamente ho un presidente che mi lascia lavorare nel miglior modo possibile. Ovviamente noi ci siamo confrontati quest'estate, abbiamo deciso di puntare tanto sui giovani per una programmazione che ci vedrà all'inizio. Credo peccare su qualcosa perché purtroppo sappiamo tutti che i giovani devono migliorare partita dopo partita, ma che poi nel lungo periodo, se lavoriamo bene, verrà premiata. Da Pietra Melare è tutto, Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per casertasera.it